Cerchiamo di comprendere adesso il secondo caposaldo del sistema hegeliano, ovvero la identità, la coincidenza tra ragione e realtà, espressa nel famosissimo aforisma riportato nell'opera Lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, il quale recita che tutto ciò che è razionale è reale e tutto ciò che è reale è razionale. Per comprendere la natura di questo aforisma dobbiamo prima di tutto chiarire il significato dei due termini fondamentali che appaiono, i due termini chiave, reale e razionale. Partiamo da reale, ecco reale si riferisce a che cosa? Si riferisce alla realtà, una realtà in senso ampio. Per Hegel con realtà intendiamo il mondo animale, il mondo vegetale, ma anche il mondo umano, il mondo umano considerando anche i prodotti che nella storia gli uomini hanno appunto pian piano mostrato, ciò che nella storia l'uomo si è adoperato a fare. E quindi parliamo anche di rapporti familiari, rapporti economici, rapporti anche morali, in generale anche le produzioni, quindi le produzioni artistiche, le produzioni filosofiche, le produzioni religiose. Ok? Quindi quando parliamo di mondo umano chiaramente stiamo parlando di un mondo molto più ricco rispetto al mondo vegetale, al mondo animale, secondo Hegel naturalmente. Quindi il reale si riferisce a questa realtà molto ampia che comprende il mondo vegetale, il mondo animale e il mondo umano con i prodotti umani nella storia. Andiamo a capire il secondo termine, razionale. Ecco il termine razionale è strettamente connesso a ragione, si riferisce alla ragione. Ma che cos'è questa ragione? La ragione è il soggetto spirituale, è l'idea che si configura come fondamento dell'intera realtà. Quindi il fondamento di quella realtà che comprende il mondo animale, il mondo vegetale, il mondo umano, è razionale. Questo significa che c'è una perfetta corrispondenza tra il pensiero e l'essere, tra la ragione e la realtà. Analizziamo nello specifico l'aforismo di cui vi ho parlato. La prima parte dice tutto ciò che è razionale e reale. Significa che la razionalità non è qualcosa di astratto, non è ovvero qualcosa di separato dal reale, ma la razionalità è ciò che dà la forma al reale. Quindi non è separata dal reale, ma è la forma di tutto ciò che esiste. Perché? Perché tutto ciò che esiste è governato da questa forma razionale, è governato dall'assoluto, dalla ragione, dall'idea. Andiamo a spiegare la seconda parte dell'aforismo, ovvero tutto ciò che è reale e razionale. Questa seconda parte si riferisce al fatto che nella realtà nulla è caotico. Quindi tutto ciò che è reale e razionale serve ad Hegel per chiarire che la realtà non si configura come una massa caotica, ma rappresenta in ogni sua fase, in ogni step del percorso, rappresenta una manifestazione del divenire della ragione e quindi della razionalità nella realtà. Ovviamente nel mondo animale, nel mondo vegetale, questa manifestazione dell'assoluto, della ragione, è inconsapevole, mentre nel mondo umano questa manifestazione acquista consapevolezza. Cioè l'uomo, differentemente dall'animale, differentemente dal vegetale, ok? Può e si rende conto, è consapevole di essere parte del tutto, di dipendere da una natura razionale, ok? Quindi questo aforisma, ok? Esprime questa identità, un'identità assolutamente necessaria, sostanziale, tra la realtà e la ragione, ed è quello che comunemente viene chiamato, viene definito panlogismo, cioè un aspetto, no? Della filosofia hegeliana. La filosofia hegeliana è una forma di panlogismo, dove panlogismo, tutto ragione, dove ogni parte del reale coincide con la ragione. Questo significa che non vi è nulla nella realtà che non sia stato già definito e costituito dalla ragione, ok? Ora, per riassumere questo secondo caposaldo della filosofia hegeliana. Diciamo che per conoscere la totalità del reale, e noi sappiamo che Hegel è un filosofo ottimista, e sappiamo che egli considera la ragione umana come assolutamente capace di comprendere il sapere assoluto, ok? Quindi, conoscere la totalità del reale è possibile proprio perché il pensiero e la realtà coincidono. Dire che il pensiero e la realtà non coincidono significa cadere in quel dogmatismo filosofico da cui poi deriva la distinzione tra fenomeno e numero, la distinzione tra soggetto e oggetto, la distinzione tra finito e infinito. Ma in una filosofia, come quella hegeliana, panlogista, ok? L'identità tra ciò che è razionale e ciò che è reale, chiama in campo la possibilità dell'elemento razionale, ok? Quindi della ragione di conoscere l'intero reale. E se la ragione può conoscere l'intera realtà è perché l'intera realtà si fonda sulla ragione stessa. Nella natura, per esempio, nel mondo animale, nel mondo della natura in generale, anche nel mondo vegetale, tutte le leggi fisiche, le leggi chimiche, ma anche la perfezione del corpo, dei corpi animali, anche del corpo umano, dimostrano la razionalità del reale. E quindi questa razionalità è evidente e ogni parte del mondo reale è manifestazione assoluta del reale. Il mondo umano, chiaramente, secondo Hegel, mostra una maggiore ricchezza di contenuti razionali rispetto al mondo vegetale, al mondo animale. Ecco perché il mondo umano è il mondo del Geist, il mondo dello spirito. Per questo motivo che lo spirito poi si identifica con la ragione e con l'idea. A questo punto, chiarendo l'aforisma, tutto ciò che è razionale e reale, e tutto ciò che è reale e razionale, arriviamo a comprendere il senso vero di che cosa sia la filosofia. Ecco, il ruolo della filosofia è quello di comprendere la realtà come totalità, nella piena consapevolezza che cogliere la realtà significa cogliere contemporaneamente la ragione che ha fondamento di quella realtà, dato che tutto ciò che è razionale è reale. Quindi la filosofia arriva a comprendere una realtà quando questa si è già dispiegata. Ecco perché Hegel, per spiegare che cosa sia la filosofia, utilizza una metafora bellissima, una metafora che è proprio quella della nottola, cioè della civetta, della nottola di Minerva. La nottola è questa civetta, questo uccello che arriva al calar del giorno, quando si fa sera, perché inizia il proprio volo al crepuscolo, quando la giornata ormai è terminata. Ecco, la filosofia ha questo ruolo. Quando la realtà si è dispiegata, la filosofia riesce a cogliere e a dimostrare la razionalità del mondo in ogni aspetto del reale. Quindi la filosofia è chiamata a comprendere profondamente la realtà. E comprendere profondamente la realtà significa consapevolizzare che ogni parte del reale è razionale. E secondo il primo caposaldo, la nottola di Minerva è chiamata anche a comprendere che le parti del reale non sono separate tra di loro, ma sono tutte manifestazioni di un'unica realtà, perché il vero è l'intero.